Annalisa ci scrive, oggi non si capisce più niente, mi piacerebbe saperne di più sull'origine e il trattamento dei prodotti. Cara Annalisa, da noi puoi controllare la storia dei polli filiera qualità Carrefour direttamente sul tuo smartphone. È semplicissimo, basta inquadrare questo codice per sapere dove sono stati allevati ed essere sicura che non sono stati alimentati né con OGM né con antibiotici e tra qualche mese lo potrei fare anche su tanti altri prodotti.